Grazie a tutti Inizio con questo che hanno insieme un cagnolino molto semplice con le orecchie blu e il corpo è grigino Ho fatto le orecchie blu un po' strano ma insomma diciamo che avevo a disposizione solo questi due colori e avevo comprato il blu e il grigio quindi ho utilizzato quelli che avevo e il cordoncino è marroncino è uno dei miei primi esperimenti col fio poi questa collana fatta mettendo degli svarosti gli svarosti sono messi praticamente di bicono un bicono viola, un bicono trasparente quello centrale è un bicono un po' più grande sull'azzurro blu blu oltremare non so non so se si può vedere meglio così e poi la catenina e termina così praticamente la collana molto semplice ma mi sembra bella di effetto luminosa anche questa poi una targhetta anche volendo si può taccare le chiavi vedete c'è il suo moschettone questi anellini e un anellino in mezzo più brillante più grande e poi qui termina con una perolina gialla l'ho fatta su legno pirografata e poi l'ho dipinta col bianco e nero e ho dato poi una vernice sopra ho fatto il fioralino e una farfallina qui il fioralino questo sembra colorato ma non solo pirografato bene pirografato e poi dall'altra parte della targhetta ho scritto hop speranza poi vi faccio vedere vi faccio vedere quest'altra collana è fatta con tutti degli anelli dorati la parte centrale e poi ho inserito queste perle di vetro o se marroncino bianco e marroncino a foro largo ecco così ecco così ecco aspetta che mi sto facendo vedere forse i miei ecco così e nella parte centrale praticamente queste anelle così dorate indrecciate ma poi la collana è agganciata ad una collanina più sottile perché la collana praticamente è così fino alla fine è solo praticamente la parte terminale che è fatta con queste anelle brillanti ecco così adesso si può vedere questa ok poi questa fatta con la resina praticamente nella resina io ho inserito inserito dei glitter glitter sul colore rosso e dei glitter più grandi qui dorati e rossi e inserito questo cuore fatto in alluminio martellato e poi il cordoncino è in alcantara marrone è la chiusura è la chiusura è la chiusura maschettone così e dietro ho fatto una collata blu ma era trasparente e poi si vedono i glitter grandi e piccoli sopra rossi e poi l'ultimo un disegno del nino molto grande però tanto grande non è veramente è un formato a 4 però vado indietro ecco c'è un mignon centrale un mignon che salta e un mignon che spunta dall'angolo questo lo prendo tutto e tutto un mignon cattivissimo me ecco tutto ok un po' sfocato si vede sfocato ma così mi sarebbe fuoco non sarebbe così ecco adesso ok così ecco ecco tutto ecco vi faccio vedere tutto più o meno tutto ciao grazie grazie Grazie.